eeeh ciao a tutti ragazzi sono Beogamer e oggi siamo tornati con il torneo più bello d'italia per il Pestlandia League. Allora ragazzi apro una piccola parentesi molto molto breve sulle precedenti due partite della nuova stagione ovvero quella della prima giornata di Ligan è la prima in Europa League. Ora non per mettere la mani avanti ragazzi però molti lo sanno altri no praticamente cosa è successo che il sottoscritto ha dimenticato a caricare i dati delle tattiche della squadra. Già praticamente ho fatto una sorta di carachiri ragazzi infatti se ci fate anche caso i risultati sono abbastanza simili. Errore che non cercherò di rifare oggi perché oggi ragazzi siamo giunti alla seconda giornata di Ligan e contro chi andremo a giocare? Chi sarà il nostro avversario? Maurizio Evidiello. Maurizio Evidiello. L'italian Tom Player. L'italian Tom Player. Praticamente giocare contro questo alieno è una sconfitta certa. Però ragazzi ormai mi conoscete benissimo io me la giocherò in ogni caso. Quindi ragazzi si gioca in casa ma sia contro 60TN di Maurizio Evidiello. E direi di andare subito alla partita. Si parte ragazzi mettetevi comodi e godetevi la partita. Occhio occhio. Bravo. E questa notte l'aspettati. E questa notte l'aspettati. Porco zio. E' gol. E' gol ragazzi. E' gol. 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 1-0, non ci sto credendo Micchia, ho messo in pausa, ragazzi Non ci sto credendo, che cazzo gli ho fatto a Magri Madonna Ha fatto un cambio Occhio 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 Ok, fuori il gioco, mamma mia Attenzione, attenzione Attenzione Via Merda, merda Se l'ha mangiata, se l'ha mangiata Se l'ha mangiata No No Ma ha bucato, bella, bella cazzo Bella Bella Merda Merda Bravo Micchia Fuori, 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 butta, butta sta micchia di palla No, ok Merda 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 2 a 2 ragazzi Mamma mia che cazzo di partita Ma che partita ragazzi Mamma mia che partita No Mamma mia E qua ragazzi devo fare molta attenzione Molta attenzione Vai sciulle vai sciulle Vaffanculo Nel momento un po' allenativo ci sto pure io Vaffan Vaffanculo Madonna 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 Vaffanculo No che cazzo si è mangiato porcozio No 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 Eh vabbè cazzo Pricchiere ragazzi Di testo troppo forte Mi sa contrastare Sa fare contrastieri ragazzi Non ci posso fare nulla Merda cazzo è passata Eh no È gol 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 E quando vai in contropiede non riesco a fumare ragazzi È devastante Peccato cazzo stavo facendo una bella partita Peccato E fallo quello comunque Guarda come si fa a riprendere la palla Eh fallo pure quello comunque Eh 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 è un po' di laggi Un altro gol ragazzi No Eh bravo Mauri Mi ha fe... Eh Un altro gol Vai vai Questo è il Mauri che riconosco Squadra stanca Un altro gol No Oddio Madonna 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 Che cazzo sta succedendo No Ma vaffanculo Gli è rimasta pure in campo Ma dai Dai Mi chiamate dove lo fischia ragazzi Pazzesca sta cosa Non te ne lascio spazi Paoli Non te ne lascio spazi Ora fischia Eh lo sapevo Va bene va bene ragazzi Oh Non so voi Comunque sia Io sono pienamente soddisfatto Stavolta sono riuscito a caricare pure i dati Delle tattiche della squadra E come avete avuto modo di E come avete visto E come avete avuto modo di vedere La squadra gira ragazzi Fa paura Fa paura E se sono riuscito a fare due gol a Mauri Fa veramente paura Va bene ragazzi Io spero come sempre che il video vi sia piaciuto Quindi vi invito a lasciare un bel pollicello su A commentare Alla prossima Ciao Ciao Ciao